Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Giannina e oggi ho pensato di affrontare un argomento molto molto importante di cui ricevo spesso domanda e parliamo delle smagliature. Purtroppo le smagliature avvengono quando facciamo questo dimagrimento o aumento di peso molto velocemente. Succede che si ha un aumento del cortisolo nei tessuti cutanei e quindi questo aumento fa perdere le proteine di conseguenza, l'elasticità della pelle e praticamente si rompono le fibre del tessuto cutane. In questi casi è molto importante della prevenzione, alimentazione sana, ricca di frutta e verdura e cereali integrali, è molto importante che voi abbiate cura di voi stessi iniziando soprattutto da dentro perché da dentro se riusciamo a curare il dentro riusciamo a curare il fuori. Io ad esempio dopo sette mesi di dieta, di alimentazione sana, quindi tanta frutta, tanta verdura, la mia pelle è stupenda, morbida, senza macchie. Io mi vedo anche più giovane, farà che sono l'ultima vita, però io la vedo, io quasi non ho più bisogno della crema, vi giuro. Ho la pelle molto 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 elastica e molto molto idratata, quindi è molto importante la prevenzione. Un'altra cosa oltre all'alimentazione naturalmente è l'acqua, senza l'acqua non si fa niente, bisogna idratare la nostra pelle da dentro e poi fuori. Per quanto riguarda fuori dobbiamo andare a cercare creme che idratano per rendere la nostra pelle più elastica e nel momento in cui abbiamo questo tipo di problema per quanto riguarda le smagliature, lui non troverà la pelle troppo secca, quindi la troverà più elastica e le smagliature avverranno meno. Purtroppo per le smagliature ci sono pochi rimedi, ci sono degli acidi, l'acido bossue, aspettate che me lo so scritto perché me lo dimentico sempre, si chiama, adesso aspettate eh, si chiama acido bossuelico che svolge un'azione antinfiammatoria e riparatrice dei tessuti, particolarmente utili anche i fanchi perché contengono sali minerali, quindi di conseguenza il cloro, sodio, potassio che aiutano alla rigenerazione dei tessuti, quindi è un rimedio molto utile. Un altro rimedio che mi è stato consigliato da l'amica mia Maria Teresa che si occupa di di cose olistiche, vi lascerò nell'info box il link del suo canale, mi ha consigliato l'olio di rosa moschetta che anche quello aiuta nelle macchie del tempo, nelle smagliature e così via. Quindi oltre a questi non ci sono altri rimedi che se non quelli chirurgici quindi oppure le cose sfoglianti, il peeling chimico, dermabrasione, biotermogenesi e così via. Il laser, la microchirurgia, penso che nessuno vorrebbe arrivare a tanta sofferenza. Ci sono state delle preziose proprietà tonificanti e elasticizzanti anche le creme a base di bava di lumacca che grazie all'elevato contenuto di colagine ed elastina assicurano un nuovo tono alla velle ma immagino che costano un boato. Ragazzi avete voi il farmaco in mano contro le smagliature che è l'acqua e l'alimentazione sana. Sto morendo dal caldo. Un'altra cosa di cui vi volevo parlare in questo video è l'acne. E' successo che un anno fa mia figlia che all'epoca aveva 16 anni ha avuto un'esplosione di agne sulla fronte ma proprio così in una settimana la sua fronte si è riempita di agne. Naturalmente l'ho portata immediatamente perché ragazzi andate dal dottore. Quando avete i brufoli e tutti questi agne sul viso non lasciate che quella prenda sopravento sulla vostra pelle e ve la distruga. Andate dal dottore. A mia figlia gli hanno prescritto dei antibiotici e in arco di due mesi sono sparite tutta questa acne. Purtroppo visto che l'infiammazione è stata così aggressiva, così d'impatto, gli sono rimaste delle macchie su tutta la fronte, macchie bordeaux. Questo causato proprio dalla forte infiammazione del tessuto cutaneo ha prodotto più melanina e di conseguenza gli ha lasciato delle macchie scure. Sempre a Maria Teresa che Dio la benedica gli ho chiesto un aiuto e mi ha consigliato questa linea che è dell'Avo, si chiama Black Hand Clearing ed è stata una mano santa. Questo è lo scrub e questa è la maschera. Questa maschera dovevo usarla una volta questa settimana perché è molto all'acido salicico dentro, è un fortissimo sbiancante, quindi questa l'ha aiutata nell'arco di meno di un mese. Questa ragazza ha avuto di nuovo la sua pelle come prima, è ritornata esattamente come prima. Quindi se a qualcuno potrebbe aiutare, questa è dell'Avo Black Hand Clearing. Non sto facendo pubblicità assolutamente a nessuno, vi sto solo dicendo la nostra esperienza. Questo è stato il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, di seguirmi su Instagram, poi ammigiamo insieme, di andare sul mio blog e lì posto sempre delle ricette squisite. Se volete essere seguiti nella dieta Giannina andate nell'info box e ci vediamo al prossimo video. Bye!